9. La croce La settimana che precede la Pasqua si chiama Settimana Santa. Particolarmente importanti sono il giovedì e il venerdì santo. Il giovedì santo si ricorda l'ultima cena di Gesù, quando annuncia che uno dei dodici apostoli lo tradirà. Il venerdì santo si ricorda la crocifissione e morte di Gesù. In questo giorno non si mangia carne e si celebra il rito della Via Crucis, in cui si rivive La passione di Cristo. Non sono però giorni festivi, quindi in Italia si lavora normalmente. Il famoso dipinto L'Ultima Cena, o Cenacolo, realizzato tra il 1494 e il 1498, è un capolavoro di Leonardo da Vinci e del Rinascimento italiano. Si trova a Milano, su una parete del refettorio della Chiesa di Santa Maria delle Grazie. In verità, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. La Via Crucis Il venerdì santo, a Roma, il Papa celebra la Via Crucis al Colosseo. Il venerdì santo, a Roma, il Papa celebra la via